Dovremmo farlo di nuovo qualche volta. Aperol, la migrazione giusta. Nuova DAEV Matiz, progettata intorno a te. Laura Pausini, the best of. Laura Pausini, the best of. 14 grandi successi più due inediti. Anche a Natale con il concorso Emozioni Vincenti IP puoi vincere subito Casette Kikko, Palmarie Casio, postazioni multimediali HP e a destrazione 100 milioni in gettoni d'oro. Emozioni così, solo con IP. و can you trust when you need to? Why do we rest when we're here? Babies! Babies, fate scegliere i vostri sensi. Con Wind ti ricarichi a ogni telefonata che ricevi e scopri subito quanto hai guadagnato. Wind, ti conviene rispondere. Fernet Branca, carattere dominante. We're right behind you, go, baby, go, baby. Brailestones. Chi ha peccato indossi la prima pietra. Da questa parte! Per di qua! Cos'hanno rubato? Rubato tutto! Stipendi, paghe, archivio clienti, progetti, tutto! E come hanno fatto? Che ne so, i poliziotti siete voi! Non c'è più niente. E tutto quanto era qui? Tutto! Gigi, i computer! Hanno rubato tutti i computer! No, abbiamo trasferito le applicazioni di tutte le nostre sedi in quel server IBM. IBM. Ci costa meno e ci gira anche Linux. I server IBM supportano Linux. Cos'è un server? Ti fa risparmiare un bel po'. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. Sweet kiss makes my engine star. The way you move, you're on my heart. Sweet kiss makes my engine star. The way you move, you're on my heart. Sì, viaggiare! Un bel viaggio esotico. Lontano da tutti. Magari con tanti amici. Un viaggio organizzato. Con l'attività compresa del prezzo. Sì! Tenda. Col bagno, bobo, sdoccia. Al mare, ai monti. Al miramonti. Fuori. Molto fuori. Per ruare a se stessi. L'agenda. Le chiavi. La chiave di tutto. Prendi una decisione chiara. Sambucca Molinari. Chiara e decisa. Pink Floyd. The best of. How are we? How I wish you were here. Pink Floyd. L'anere! The best of. L'evento discografico del nuovo millennio. John! Dai, John! Adesso tocca a me guidare. Nuova Saab 95 turbodiesel common rail. Provatela negli showroom Saab. John! Ma il formaggio. La 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 la. Ma non si tiene così la forchetta. Ma chi gli ha insegnato a recitare? Sofficini Fellus. Invidiabilissimi. Ho sbagliato. Posso rifarla? No. Ti sei finito i sofficini. Ah. Italia 1. E adesso non ci sei che tu. A casa! Imparai. 35.000 quiz a memoria. Sì! Mamma a*****a! Ma questo sexy symbol? Chi? A me non è piaciuto tanto. Perché? Se ti do un bacio con la lingua, a me non mi fermi più. Dai, non dire così questo sexy symbol. Basta così per dei giorni, eh. Mai dire grande fratello. Domani a mezzanotte in diretta su Italia 1. Mamma, ma cos'è?